con oggi volge a termine quello che è stato la lunghissima esperienza della parola innamorata ma soprattutto la lunghissima esperienza di di nostos cioè la mostra di Dino Pedreali dedicata alla figura e alle arteri per Paolo Pasolini è stata un'esperienza intensissima abbiamo avuto la fortuna di ospitare qui di Dino Pedreali che è un pezzo della storia della fotografia del novecento e le sue immagini legate all'ultima parte della vita di per Paolo Pasolini immagini scattate nel 1975 che poi resteranno una sorta di intestamento in termini iconografici del poeta che sarà trovato morto solo un mese dopo gli scatti di Dino Pedreali all'interno della della mostra abbiamo attivato tutta una serie di iniziative collaterali di carattere culturale legate all'opera alla figura di per Paolo Pasolini con una serie di di talk di seminari di performance dedicate al poeta sia negli spazi qui di Palazzo Fruscione che negli spazi dell'ex teatro di Ana della fondazione Carisal a fianco a tutte queste iniziative dedicate al pubblico generico abbiamo organizzato e io mi sono occupato in particolar modo della direzione di questa parte di una serie di iniziative dedicata agli istituti scolastici o a delegazioni universitarie a laboratori ai più giovani l'intento di un'iniziativa che portasse i giovanissimi all'interno di questi spazi è legata non solo ad avvicinarli all'arte e in particolare alla fotografia ma a creare una sorta di percorso pedagogico formativo nei confronti non solo del poeta ma di quelli che sono tutti linguaggi espressivi creare una sorta di curiosità una curiosità che poi crea interesse e quindi spirito critico e quindi spirito libero questa serie di iniziative hanno riguardato focus letterari tematici per Paolo Pasolini ma anche tutta una serie di di focus e di workshop legati ai diversi linguaggi espressivi e calibrati sulle diversi target e diverse scuole che sono venute a trovarci durante queste settimane quindi focus legati alla comunicazione all'ammanagement culturale al disegno e alla fotografia si chiude oggi la mostra di ino pedriali per Paolo Pasolini di Nostos che è stato un evento veramente straordinariamente interessante ha avuto un grandissimo successo di pubblico di critica di partecipazione degli studenti di ogni fascia d'età è stato un ulteriore studio dedicato alla figura di Pierpaolo Pasolini a 360 gradi dalla poesia alla scrittura dalla poesia al cinema alla letteratura un ulteriore input per studiare una delle personalità più interessanti del nostro novecento Grazie! 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 Grazie!